Ciao, piacerebbe anche a te costruirti delle rendite extra mensili senza troppo impegno e senza avere chissà quali competenze? Molte altre persone l'hanno già fatto, perché non lo fai anche tu? Mi raccomando, clicca sul link che trovi nella descrizione del video, iscriviti al mio canale dedicato e vedrai tutto il percorso che sto facendo in questa associazione. Mi raccomando, per qualsiasi cosa sono a tua disposizione. Ciao! Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Guadagnare Online con le criptovalute. Questa sera vi farò vedere un altro metodo per guadagnare criptovalute tramite il vostro smartphone. Quindi vi invito a guardare fino alla fine questo video. Come vi invito del resto a effettuare l'iscrizione al canale YouTube, ma anche al canale Telegram cliccando su questo pulsantino qui. Bene, ho detto tutto, andiamo subito all'argomento della serata. Clicchiamo su questo pulsantino per andare sul mio sito web. Una volta aperta l'home page andiamo su Cloud Mining. Dopo le altre due chicche che vi ho proposto, vi propongo anche Free Bitcoin Cash, che è un'applicazione che funziona su Android, ma se non avete Android non c'è nessun problema, continuate a vedere il video perché vi do la possibilità di poterlo utilizzare col PC. Come del resto faccio io perché non ho Android. Allora, la prima cosa da fare è cliccare appunto sul logino. Si aprirà appunto il Google Play per scaricare l'applicazione, quindi la scaricate e la installate. Io nel frattempo vado ad aprirmi l'emulatore. Un attimino che sta caricando. Ecco qua, sta caricando Android. Ancora qualche istante. eccoci qui. Abbiamo la nostra icona di Free Bitcoin Cash. La andiamo a cliccare. Un attimino che carica anche l'applicazione. Benissimo. Arriviamo ai dettagli di questa applicazione. La prima cosa da fare è cliccare su questo pulsante qui. Ci si apre questa schermata e abbiamo a disposizione due tiri. Quindi facciamo il primo tiro. c'è uscito 125. Facciamo un secondo tiro. 165. Questi sono Satoshi. Però io vi consiglio di andare avanti fino a quando non andate su questi punteggi qui in modo tale da poter guadagnare di più. Vi si è considerato che questi punteggi sono decisamente bassi. La nostra speranza è quella di ovviamente trovarci le icone di Bitcoin Cash argento che ci porteranno direttamente nella parte alta del gioco e avremo dei punteggi maggiori. Quindi adesso per guadagnare altri tiri dobbiamo guardare la pubblicità. Bene. Ancora 10 secondi. perfetto. Una volta finita la pubblicità andiamo a cliccare sulla X per chiudere appunto la pubblicità e ritorniamo al gioco. Quindi ci vengono sono dati tre colpi ancora. Proviamo col primo. Perfetto. Siamo passati alla parte successiva. Ho preso anche il Bitcoin Cash d'Oro. riproviamoci ancora. Perfetto. Abbiamo altri due colpi da giocare. 85 231 231. Vabbè, accontentiamoci di 231. Quindi vado a cliccare su questo pulsante e faccio un claim di 231 satoshi. me li hanno accreditati. Andiamo sul secondo pulsante, clicchiamo per vedere la pubblicità. Perfetto. Finita la pubblicità possiamo tirare e vediamo quanti satoshi vinciamo. Abbiamo vinto 83 satoshi. Clicchiamo su continua. Abbiamo ancora possibilità di giocare a un altro bonus. Allora, mi si è chiusa l'applicazione, l'ho riaperta e il bonus non è più disponibile perché mi è stato accreditato. Ci sono altre possibilità di accumulare satoshi di Bitcoin Cash tramite questi pulsanti qui che però sinceramente io li lascerei perdere. Se clicchiamo qui ci esce fuori il nostro codice referral per invitare i nostri amici e andiamo nelle impostazioni. Come vedete ci dice che verranno automaticamente pagati ogni lunedì da 1000 satoshi in su. Quindi non dobbiamo fare ritiri perché in automatico arrivano sul nostro wallet. Allora, qua in alto vediamo un resoconto. Allora, questo non ci interessa. Questi sono i claim che ho effettuato io. 5 minuti fa 1000 satoshi e un'ora fa 531. Quindi in questi due secondi che vi ho fatto vedere l'applicazione che purtroppo si è chiusa perché il pc è acceso da tutto il giorno e non ce la fa più ho accumulato 1000 satoshi praticamente senza fare assolutamente nulla. L'applicazione è molto semplice da usare. Da smartphone è sicuramente molto più veloce. E niente, adesso se siete arrivati a questo punto e non avete Android vi spiegherò come fare per utilizzare questa applicazione da pc. Allora, ritorniamo sul mio sito. Clicchiamo qui per scaricare l'emulatore. Quindi andiamo direttamente nella pagina ufficiale di questo emulatore. Lo andiamo a scaricare, lo installiamo. Dopodiché andate a scaricarvi anche l'applicazione. Quindi se cliccate qui, parte il sito di Mega. Andiamo poi a cliccare su Download. Scarichiamo il file. Io adesso non lo scarico perché ovviamente ce l'ho già. Eccolo qua. Basta poi fare tasto destro, apri con, e già in automatico ci seleziona l'applicazione corretta per aprire i file APK che appunto sono i file che vengono gestiti da Android. Quindi adesso non lo apriamo, però vi ho fatto vedere come si fa. Cosa ne pensate allora? Fatemi sapere nei commenti. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube e anche al canale Telegram. Vi aspetto. Ciao a tutti e buona serata. Ciao. Piacerebbe anche a te costruirti delle rendite extra mensili senza troppo impegno e senza avere chissà quali competenze? Molte altre persone l'hanno già fatto. Perché non lo fai anche tu? Mi raccomando, clicca sul link che trovi nella descrizione del video, iscriviti al mio canale dedicato e vedrai tutto il percorso che sto facendo in questa associazione. Mi raccomando, per qualsiasi cosa sono a tua disposizione. Ciao. Ciao.